I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale ha disposto misure cautelari, personali e reali nei confronti, in particolare, di Salvatore Ferlito, sottoposto a indagine insieme ad altri otto soggetti a valio titolo coinvolti per i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e preferenziale. Le investigazioni hanno riguardato le società Sicula Costruzioni, società cooperativa RL in concordato preventivo dal 2021 e la CFC SRL in fallimento dal 14 ottobre del 2022, entrambe operanti al settore degli appalti pubblici di lavori edili. Degli approfondimenti eseguiti sarebbe emerso che Ferlito sarebbe stato dominus di fatto dell'intero gruppo di società riconducibile alla sua famiglia, tra cui vi rientrerebbero anche la Comer Costruzioni SRL, la FCG SRL e la Scaviva RSRL. In particolare, l'indagata avrebbe utilizzato la sua posizione di amministratore di fatto, e in alcuni casi anche di diritto, di queste aziende per procedere al loro svuotamento in favore delle altre società del gruppo al momento in cui, per effetto dei rilevanti debiti maturati, risultava più conveniente continuare l'attività economica con una nuova o diversa realtà aziendale. All'esito delle indagini, il GIP ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Ferlito e il sequestro delle società per un valore stimato di circa 2 milioni di euro.